Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Vogliamo vivere questo percorso con Gesù Gesù che ha dato la vita sulla fronte Gesù che si è emolato perché ciascuno di noi possa vivere nella novità possa avere il dono della finezza della vita, il dono della vita nuova Seguiamo Gesù che ha dato la vita perché possiamo, come è lì a fatto venarci ad amare, venarci ad adonarci, a dare tutto di me stessi Oggi su, hai fascinato la croce sulle te spalle, da solo Sei caduto sotto il suo peso e come ogni uomo hai sofferto E il tuo corpo, come quello di ogni uomo e donna sulla terra è caduto perché colpito dall'ingiustizia e dall'indifferenza dalla siccità e dall'invidia di chi non vuole vedere è percorso quella via di morte trasformandola in via di salvezza e di vita i cui passi di un uomo ferito ma libero ci hanno liberato da ogni schiavitù le tue cadute sotto i coppi della violenza ci hanno insegnato la frecondità del perdono le tue parole sulla croce ci hanno insegnato la tenderezza dell'amore vogliamo restare con te, Signore della vita lungo le vie della croce negli scoscesi sentieri della sofferenza vogliamo restare con te per ascoltare le tue parole per non arrenderci alle difficoltà per non permettere alla sofferenza di ucciderci resta con noi, Signore, lungo le vie della croce perché la vita continua a vincere ogni morte Amen Salta Padre del Lui Fate che le chiave del Signore sia lui prese nel mio cuore grazie a tutti 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 Grazie. 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 Il vostro pane e il Dio amore. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, sui benedetta provvedore, benedetto del tuo seno di Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, sui benedetta provvedore, benedetto del tuo seno di Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, sui benedetta provvedore, benedetto del tuo seno di Gesù. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti